Amici e amiche di Arte Atelier, buonasera, bentrovati e bentrovati in mia compagnia. Abbiamo 2 ore e 30 questa sera, alle 23.30 finiremo il nostro incontro di giovedì sera e nell'ultima mezz'ora sarete in compagnia dell'approfondimento che ha registrato Francesca Castellano che riguarda, se non erro, i lavori di Zive. Tra l'altro ha fatto un girato nuovo che, Davide, abbiamo già mandato in onda o lo manderemo in onda la prima volta domenica? Ecco, questa domenica alla fine della diretta delle 13 c'è un nuovo girato di un'ora che sono certo che seguirete con piacere anche perché le opere di quello precedente le avete confermate tutte, non ce n'era più una, quindi abbiamo ben pensato di fare una variazione sul tema. Allora, signore e signori, ripeto, prima di tutto buonasera, bentrovati e bentrovate in nostra compagnia. Ricomincia il fine settimana di Arte Atelier come sempre con la diretta del giovedì sera. Vi anticipo immediatamente che anche questa settimana il catalogo della migliore offerta di sabato è un catalogo che auspichiamo, che speriamo vi vedrà partecipare in maniera robusta come sempre dalle ore 14 alle ore 17, sabato prossimo, insomma, dopo domani sul canale 140 del Digitale Terrestre oltre che 250, sempre il Digitale Terrestre, 863 di Sky, 863 di TVSat, lo streaming, l'app, insomma, un po' ovunque come il prezzemolo Arte Atelier. Quindi largamente visibile dalle 14 alle 17, vi anticipo subito che avrete la possibilità di esaminare un'altra volta ancora un bel catalogo, se vogliamo fare un paio di spoilerate, insomma, c'è una cosa veramente molto bella di Jorri Torquist del 1971, adesso però c'è una cosa bella e importante di Raciti, un'altra veramente notevole di Corpora degli anni 70 su carta velluto, quindi una cosa molto raffinata, insomma, anche per la migliore offerta di sabato abbiamo ottenuto in serbo delle belle cose per il pubblico di Arte Atelier che spero naturalmente ci seguirà, che spero naturalmente continuerà a restituire a questa trasmissione il seguito e il merito che a nostro modo di vedere si è assolutamente guadagnata nel corso degli anni, si è assolutamente guadagnata nel corso del tempo. Ora, preparatevi anche naturalmente a domenica mattina, domenica mattina di nuovo andrà in onda per la decima settimana di fila una trasmissione con delle cose molto belle, con delle cose inedite, molto importanti, io so che il pubblico ama molto, ad esempio, il lavoro di Penck, del quale non si trova mai in circolazione niente, ecco, domenica mattina vedremo una cosa secondo me veramente molto bella di Ralph Winkler, no? Alla storia dell'arte AR Penck, di questo artista della Germania dell'Est all'epoca, mi fa tornare in mente le parole di Andreotti quando diceva che la Germania gli piaceva talmente tanto che ne preferiva due invece di una, che naturalmente era una frase ironica con un senso che andava nella direzione proprio della Germania unificata è un altro tipo di avversario, insomma, ecco, di amico e di avversario. Detto questo, grande artista del quale so che amate le opere e che, insomma, domenica mattina ci vedrà presentarne una che spero tantissimo riuscirete appunto, no? Riusciremo appunto a sottoporre con successo la vostra attenzione dopo l'opera di Burri che vi abbiamo fatto vedere due settimane fa vedremo un altro Burri, di nuovo un inedito, questa volta un cellotex invece di un disegno, quindi una cosa molto molto interessante, insomma, vedremo naturalmente se sceglierete o meno di far entrare nella vostra collezione delle altre cose ancora, insomma, adesso non sto qui ad annoiarvi, no? Di una cosa vi voglio parlare subito, sì, metteremo una cosa molto importante di Walter Valentini del 1981 con una quantità impressionante di pubblicazioni, esposizioni, mostre, cioè qualcosa di veramente notevole, una cosa veramente notevole di Valentini. Vi do un altro spoiler ancora, una cosa molto importante e di grande formato perché è un metro e trenta per un metro e sessanta o giù di lì adesso, scusate, non mi ricordo di preciso il formato, ma è una grande tela di Agno Finzi dedicata a Polklei, e quindi, insomma, una domenica di nuovo molto bella, la quale spero non mancherete perché di nuovo la possibilità di intervenire e mandare in conferma con il format straordinario, con il plus straordinario, quello delle permute al 50% delle opere, come sempre, come ogni domenica, veramente molto importanti, veramente notevoli. E con questo abbiamo già finito tutti i preamboli che riguardano un weekend al quale siete come sempre cordialmente invitati, poi naturalmente voi decidere di partecipare o meno. Questa sera, come vi abbiamo scritto nel messaggio che vi ha ricevuti unitamente al PDF, il mood è un po' quello della rivisitazione, cioè noi in questi mesi stiamo veramente, una cosa che verificavo proprio ieri, in realtà, assieme a Roberto, noi in questi mesi abbiamo veramente dato un'accelerazione alla presentazione di opere sempre più, al di là di sempre più importanti, sempre più, anche numericamente, sempre più numericamente presenti, quindi con un fenomeno della rotazione sempre più veloce, tanto più che adesso siamo in onda il giovedì, il sabato e la domenica, mentre prima facciavamo anche il lunedì. Quindi più materiale, meno dirette. Il risultato finale è che ci sono delle cose che veramente vediamo quasi, non voglio dire di sfuggita, perché comunque lo spazio per rivederle nelle dirette c'è anche, però non so come dire, no? Alcune cose vengono proprio messe via e quasi ti dimentichi di averle, mentre è estremamente importante, secondo me, su opere, che sono comunque opere con una valenza, con un significato, con una loro, evidentemente, robustezza culturale anche, è credo molto importante riuscire a trovare il tempo anche di dedicarsi a loro nello specifico, che è un po' quello che faremo questa sera, con una serie di opere. Poi, ripeto, le opere inedite ci sono, è un peccato non vederle, quindi le centelliniamo, magari stasera ne abbiamo messe un po' meno, ma ci sono anche questa sera, ma il tema di questa serata vuole proprio un po' essere quello di una rivisitazione di alcuni contesti. Qui c'è un piacentino, cioè, noi abbiamo un piacentino del 1986, che è un pezzo unico, che è una cosa che non si trova, abbiamo un pezzo di Gianni Piacentino, che è una cosa stupenda, veramente stupenda, con una datazione che è stupenda, ad un prezzo che fa ridere, che costa 9.000 euro, con le permute al 50%, vuol dire spenderne 4.500, tanto per capirci, abbiamo visto un paio di volte, poi ci siamo dimenticati di averlo, anche no, è un pezzo di Gianni Piacentino, ne abbiamo uno solo. Abbiamo presentato per un periodo quest'opera di Valerio Adami, poi è praticamente scomparsa dai nostri PDF. Poi, attenzione, c'è anche una partita che si gioca, cioè alcune opere, noi siamo profondamente convinti che, soprattutto se va avanti così, la situazione finanziaria generale nella quale ci troviamo, cioè, parliamoci chiaro, più si tenta di raffreddare l'inflazione aumentando i tassi di interesse e più le opere d'arte diventano un bene rifugio straordinario, quindi più la BCE segue la politica che sta seguendo in questo momento e più diventa intelligente l'idea di prendere il denaro, che vale sempre meno, essendo sempre più svalutato, naturalmente, e iniettarlo dentro opere d'arte, che se un domani, non fra sei mesi, ma un domani, dovessi scegliere di rivendere, ti restituiranno quel denaro, o addirittura perché no, di più, e tra l'altro con una svalutazione inferiore. Quindi c'è proprio, di fondo, c'è un meccanismo finanziario che sta prendendo forma in Europa, che in questo momento è proprio favorevole a questo mercato. e noi questo lo sappiamo, il lavoro che facciamo è esattamente quello di vendere opere d'arte, e quindi alcune cose magari noi per primi non è che non vediamo l'ora di venderle, però ci sono, ed è giusto, farle vedere al pubblico e riprenderle in considerazione senza far finta di essersene dimenticate, tanto per capirci. Io domenica mattina vi ho presentato uno scanavino che è veramente un quadro intenso, drammatico, profondo, proposto a delle condizioni che sfido chiunque al mondo oggi a riuscire a riproporre a parità di fattore economico, ce lo proponiamo a 28 mila euro con le permute al 50%, è un metro e 45 per un metro e 20, ma è una cosa che vai a cercarlo dove vuoi, che tanto non lo trovi, che tanto non c'è, non lo compri con 14 mila euro che spendi e 14 mila euro che permuti un lavoro del genere pubblicato sul catalogo generale con la provenienza di Valente, di Finale Ligure, non ci riesci, non è una cosa alla quale uno può dire vabbè ma sì, tanto in qualche modo vedrai che riesco a rifarlo, no, non lo rifai, non lo compri Alviani, ok, nel 1978 dipinto su tela, 60 per 70, no, scusami, un alluminio 20-20 costa lui 18 mila euro? 20 mila euro? Questo lo stiamo proponendo, questo è un 60-60, non è un alluminio, è un dipinto, ma è del 78, lo stiamo proponendo a 11 mila euro con le permute al 50%, vuol dire comprare un Alviani del 78 e spendere 5500 euro, anche questa è una roba che tanto non ti ricapita più, adesso ho parlato di, in questo modo vi ho già dato un input che riguarda Scanavino, che riguarda Alviani, che riguarda questo lavoro di Alviani, scusate, Adami, scusate, mi ero ingarbugliato, che riguarda Gianni Piacentino, cioè ci sono, è ovvio che uno mette a parete una cosa di Boetti, una cosa di Peter Alley, una cosa di Burri, eccetera, è ovvio che, no, che ci si va con la convinzione giusta di chissà che comprare quelle cose lì, quelle permute al 50%, è praticamente impossibile, non si discute, però attenzione a perdersi queste cose, magari facendo l'errore anche abbastanza grossolano, di considerarle minori, perché poi anche qui c'è da accendere un dibattito interessante su come sta cambiando il mercato negli ultimi anni, perché negli ultimi anni sta cambiando in una maniera significativa, il mercato ci aveva abituato a dei percorsi di crescita delle opere d'arte, adesso ci sta abituando ad un fenomeno diverso, che non è tanto quello della crescita nel tempo, quanto quello degli immediati scossoni di mercato, dove da un giorno all'altro un artista cambia radicalmente i suoi prezzi e improvvisamente lo si comincia a inseguire tutti quanti cercando di avere le sue opere. Quando succederà a Mondino, avere o non avere una cosa del genere, perché tanto succede, è in realtà già successo, Mondino ha già cambiato livello finanziario, mettiamola così, però per adesso sembra quasi che ci sia stata una sorta di anticipazione del desiderio di domani, tanto per capirci. Quando arriverà il momento di vedere questo artista che fa corse, tipo quelle che ha fatto Untani, tipo quelle che ha fatto Salvo, tipo quella che sta facendo Dorazio, possiamo fare tanti altri nomi, una cosa del genere magari costa cinque volte quello a cui la compri oggi e qui i 9.800 euro che vi si chiedono oggi sono peraltro suscettibili di permuta al 50%, quindi ne spendi 4.900. Per farvi un altro esempio ancora, qui c'è un lavoro di Paolo Cazzolari che è del 1969, 14.000 euro con le permute al 50%, vuol dire spenderne 7. Ora uno con 7.000 euro compra un po' quello che cavolo vuole, ci mancherebbe altro, sono soldi suoi se li hai guadagnati, se li investe come più opportuno ritiene. Però, santo cielo, i 7.000 euro dei quali stiamo parlando sono la cifra con la quale un pezzo unico di Cazzolari che è un artista assolutamente internazionale, altro frangente dal quale noi ormai non possiamo più esimerci, non tanto noi arteatelier, ma noi collezionisti, cioè sia noi che voi che noi le vendiamo, voi le collezionate, cosa? Opere d'arte? Ormai credo che abbiamo tutti capito quanto importante è non comprare realtà geograficamente localizzate, ma comprare le opere di artisti che hanno veramente, no? Un ambiente di dibattito culturale, oltre che evidentemente finanziario, che sia veramente internazionale. Cazzolari è in tutte le fiere del mondo, in tutte le mostre del mondo, in tutte le aste del mondo. Questo è un calzolari del 69, ma 7 mila euro che spendi e 7 mila euro che permuti? No? Bah! Io sconsiglio caldamente di perdersi una cosa del genere a un prezzo del genere. Sotto c'è un ozzorio, così rimaniamo in ambiente poverista tanto per capirci, sotto c'è un ozzorio del 94 che è pubblicato, che è un pezzo molto bello, un 40x60, è una tecnica mista su un cartoncino montato su tela, che a 9 mila euro con le permute, anche lui grida vendetta. Ecco, è un po' questa la, no? Lunghezza d'onda della serata che trascorreremo assieme in queste due ore e mezzo. Tanti nomi, in realtà, quindi una parete diversificata, variegata, molto eterogenea. Questa sera con piacere, tra l'altro, presento anche due opere di Fabrizio Spadini, che sta facendo questa bella mostra a Roma, questa mostra pubblica a Roma, Palazzo Merulana, e che dentro a questa mostra ha ricevuto la visita delle testate giornalistiche nazionali. Io non so se avete seguito il Tg2, ma c'è stato un lungo servizio che è proprio riguardato non tanto solo la mostra, ovviamente è partito dalla mostra, ma poi si è espanso, evidentemente, dentro il percorso di Spadini. non è che tutti i giorni capiti di riuscire a comprare con le permute al 50% le opere degli artisti che finiscono al telegiornale. Io ora, guardate, anche perché Vagna sta richiamando la mia attenzione, vi lascio qualche attimo affinché voi possiate, assieme a Damide, vedere tutta la parete. Grazie. Grazie. Scusate, sì, stiamo facendo bene a fare la panoramica. Confermo che c'è la grande opera di Cacciola a parete. Lasciate un attimo. Allora, punto uno, Griffa, che è un po' il primo input, se non ho capito male, che ci arriva a questa... Intanto guardiamolo, mentre tu giustamente stavi facendo vedere tutto il set. Facciamo però un check su un'opera di Giorgio Griffa, che è un'opera del 1973, se la memoria non mi inganna. Questa sera sono pieno di libri, tra l'altro, fuori dal set, perché sono tantissime le opere pubblicate, che dovrò... Sono tantissimi i libri, e moltissima la bibliografia alla quale dovrò attingere in redazione alle opere, delle quali stiamo parlando. Una delle opere che mi costringerà ad avere per le mani un libro, che è quello della mostra che si è tenuto alla Galleria L'Incontro di Chiari. Siamo nel 2000... Giorgio Griffa, curato dall'incontro, esatto, di Chiari. Pagine 58 e 59. Scusate, non c'è scritto la data della mostra, però il catalogo, guardate, ce l'ho qui. Quindi ci mettiamo proprio niente. Dicembre 2020, febbraio 2021, la mostra è finita due anni fa, tanto per capirci, siamo giusto giusto entrati nel febbraio del 23, e il pezzo è pubblicato a piena pagina. Boom, eccolo qua. 45 per 73 cm di formato, stringi pure sul pezzo, 45 per 73, quindi non è 50-50, non è uno scricciolino, è un'opera con un suo significativo formato, e noi la proponiamo a 22 mila euro, da confermare con le permute al 50%, vuol dire spenderne 11. E permutare gli altri 11, oggi con 11 mila euro di Griffa ne compri uno piccolino degli anni 80, più piccolo di questo probabilmente, e degli anni 80 invece che degli anni 70. Questo tra l'altro è un pezzo con una datazione molto interessante, perché siamo dentro al primo triennio degli anni 70, quindi se parliamo di pittura analitica, siamo proprio in quella che possiamo considerare la fase calda, della storia, della pittura analitica, delle grandi mostre, la Bertesca, Genova e Dusseldorf, oh mio Dio, Documenta di Cassel, che ha ospitato anche, in un'edizione specifica ha ospitato proprio il grosso degli analitici che sono andati tutti assieme in mostra, documenta, quindi insomma sono gli anni importanti quando si pensa a questo movimento di pensiero, che poi, ripeto, a me non piace mai sottolineare esageratamente come abito culturale che dobbiamo per forza far indossare a Giorgio Griffa, io vi ho sempre espresso una mia opinione su questa abitudine, definiamola pure tale, che è l'opinione che vede in Giorgio Griffa un artista che va un po' al di là di un contesto culturale che è di appartenenza, che lo vede come unico protagonista di quello contesto e basta, Griffa è uno dei più grandi minimalisti della storia della pittura internazionale degli anni Sessanta e degli anni Settanta, è uno dei più grandi maestri in senso assoluto, ma al di là di questo, è un artista che ha avuto sempre una grossa autonomia intellettuale, Griffa si è naturalmente avvicinato a molti artisti, e movimenti di pensiero che seguivano un linguaggio come il suo, che è quello appunto minimalista e di estrazione concettuale, ad alcuni di essi ha anche aderito e poi è rimasto in maniera autonoma ed indipendente l'intellettuale che è sempre stato, questo è quello che di Griffa vi ho sempre detto, qui ripeto oggi riuscire a comprare un Griffa del 73 di qualità perché tra l'altro il pezzo è molto bello entrando nel merito evidentemente della discussione che riguarda nello specifico il suo linguaggio, questo segno deciso, per l'amor di Dio, questo segno acrilico deciso, non etereo, obliquo che attraversa naturalmente il quadro interrompendosi ad un certo punto come è normale che sia nella poetica di quest'autore, vedi a un certo punto l'ultimo segno arancione è letteralmente interrotto, come se volesse lasciare spazio al prossimo quadro. Questa è una visione molto poetica, molto romantica, della quale una volta ho avuto, più di una volta in realtà, ho avuto modo di discutere con un amico che è un grande conoscitore, molto più di me, dell'opera di Giorgio Griffa e lui mi ha dato questa visione, ripeto, molto romantica, che a me piace moltissimo, che è quella tale per cui ogni opera di Griffa è come la pagina di un libro e quindi c'è una sorta di sequenzialità storica nel lavoro di quest'autore, nell'ambito del quale ogni opera diventa una pagina di quel libro. Ora, al di là di quella che è la poetica e al di là di quello che è il linguaggio che questo artista utilizza, che mi sembra non abbia veramente bisogno del biglietto da visita di nessuno, Griffa ormai è, vedi, prima parlavamo di artisti che siano realtà davvero globali, ecco, Griffa è un autore il cui mercato mondiale ormai non è minimamente né vagamente oggetto di discussione, è alle porte di un grande cambiamento, questo lo sappiamo tutti, lo abbiamo capito tutti, se ne parla poco, ma tra gli addetti ai lavori è noto che sta per aver luogo davvero un grande cambiamento, un grande cambiamento che sarà anche evidentemente economico, io non so se avete, attorno a Griffa in questo momento c'è proprio la classica quiete prima della tempesta, è esattamente l'aria che si respira, sembra davvero la quiete prima della tempesta, io tutte, visto che noi di Griffa praticamente non abbiamo, non voglio dire più niente, ma quasi, noi di Griffa abbiamo quest'opera e poi, correggimi se sbaglio, abbiamo un'opera a un metro e venti per un metro e venti circa, un metro e sedici per un metro e diciannove, una cosa del genere, basta, finito, sono le uniche due opere di Griffa che abbiamo a disposizione, siamo un po' alle solite, noi vendiamo quadri, non ce lo possiamo proprio permettere, è fisiologicamente impossibile per questa piccola azienda, poi magari altri ci riescono, sono più bravi di noi, ok, chapeau, per noi, per questa piccola azienda che è Arte Atelier, riuscire a prendere opere che dobbiamo presentare al pubblico invece di presentarle al pubblico, metterle via, dimenticarci di averle, aspettare due anni, e non è il nostro lavoro, capite, non è quello che facciamo noi, non ce lo possiamo proprio permettere, non lo possiamo proprio fare, poi lo sappiamo che nel momento in cui a condizioni come queste diamo opere come queste, stiamo gettando le basi per piangere domani, però intanto dobbiamo campare oggi, poi domani piangeremo, intanto oggi campiamo, questo è in sostanza il modo, ma non che scegliamo, ma è il modo che ha scelto noi in virtù del tipo di lavoro che facciamo, ok, poi per l'amor del cielo, tu per te stesso, è ovvio, presenti Grifa con grande entusiasmo da anni, è ovvio che hai uno barra due lavori di Grifa in collezione, lo stai consigliando a tutto il mondo, e quindi è ovvio che un paio per te te li pigli, mi sembra assolutamente, no, mi sembra letteralmente evidente, ma un conto sei tu persona, un conto è l'azienda, l'azienda compra e vende, questo fa arte atelier, ok, poi se le persone che dell'azienda fanno parte, credono in particolare in un artista, e quindi dicono, un attimo però perché, un paio me li compro io pure, ad esempio proprio quello che è successo, su Grifa, e quelle poi, quello sei tu, non è più l'azienda, arte atelier, e ciò che possiede lo vende, è, ripeto, la sua prerogativa, è la sua natura, è la natura dell'azienda che è, e non ci sono altri modi, almeno per quel, ripeto, poi tutto il mondo è più bravo di noi, e noi siamo gli ultimi degli ultimi, che va benissimo, per l'amor del cielo, per noi è l'unico modo che conosciamo di fare questo lavoro, come arriva qui una roba veramente figa, bella, voi siete i primi che la vedono, prima ancora di noi, perché poi per un'azienda ci sono contesti, che sono il marketing, la pubblicità, il passaparola, se tutte le volte che arriva una cosa bella, la facciamo sparire, perché è bella, allora ce la dobbiamo tenere noi, ma allora perché cosa abbiamo scelto di fare questo mestiere per fare cosa, cioè andavamo a vendere macchine usate a Charlotte, nella citazione di un vecchio film, per cui ho letteralmente citato un film di Tom Cruise, di quando eravamo bambini, ecco che è Days of Thunder, allora ripeto 45 x 73 cm di formato molto bella, onestamente molto bella, 45 cm di altezza, 73 cm alla base, proposta a 22, con le permute al 50%, 11 li spenderete, 11 li permuterete, altra cosa che però ecco, con l'occasione ci vede prima passare davanti a un'opera stupenda di Walter Valentini, ci vede con l'occasione passare davanti a due cose stupende di Gilbert Siao, che sono una più recente, perché questo Faser, Faser ragazzi, ecco un quadro che dovrei comprare io, il Faser, adesso non entro nel merito, se no vado avanti un'ora, ma è un pezzo di storia di uno dei grandi cult del cinema sci-fi, e chi vuole capire ha già capito, quindi Faser, che è un lavoro, quello numero 16, è un lavoro abbastanza recente, è esatto, perché è di tre anni fa, un pezzo del 2020, diverso è questo lavoro che è del 1988, che è un quadro storico importantissimo di Gilbert, del quale le opere storiche, io ve l'ho detto tante volte, noi le opere storiche di Gilbert passiamo le stagioni intere a chiedergliele, ma lui sempre col contagoccia le distribuisce, e ormai sono anche qui, sono tre anni, dal 2020 che noi vi presentiamo le opere di Siao, convinti di rendervi un buon servigio nella direzione di questo autore, quindi sono tre anni di collaborazione, non sono propriamente due minuti, ciò non di meno, ripeto, le opere degli anni Ottanta col contagocce, ma mica solo quelle degli anni Ottanta, anche quelle recenti, prima di riuscire ad avere dei quadri, ma voi non avete idea del casino che bisogna fare, comunque va bene così, passandoci davanti, eccoci, arriviamo alla grande, ecco un altro pezzo che c'era domenica mattina a parete, che lo fai vedere una volta, poi dici, ma sì, vabbè, pazienza, visto l'abbiamo visto, e non si può, e come fai? Allora, un metro e quaranta per un metro e novantotto corrisponde all'uno dei formati più imponenti in assoluto, relativi alla realizzazione da parte di Enzo Cacciola delle sue superfici integrative, pezzo, pezzo anche qui, 1973, proprio come il griffa, questa superficie integrativa di Enzo Cacciola è dello stesso anno del griffa che avete visto al numero 15, che è sempre il 1973, quindi gli anni sono gli anni d'oro dell'analitica, Cacciola era giovanissimo, Cacciola è ancora oggi più giovane tra gli artisti inseriti, dentro la stagione dell'analitica italiana Enzo Cacciola è il fan prodige, definiamolo pure tale, l'opera è una meraviglia, è una superficie integrativa che dal punto di vista formale ci sta anche che conosciate già perché, perché le superfici integrative fatte di tre elementi, comunque tutte le superfici integrative sono fatte di tre elementi, ma quelle fatte di tre elementi dove l'elemento a latere è verticale e in un certo senso entra a far parte letteralmente, del formato dell'opera, normalmente le vedete più piccole, cioè 90 per un metro e 40, invece di un metro e 40 per un metro e 98, cioè sono la metà, e sono più o meno quelle che siete abituati, che siamo tutti abituati a vedere, sono più piccole, ripeto, sono la metà, lui ne ha fatte nel tempo un certo numero, comunque sempre poche, però qualcuna l'ha fatta, quando cominci a uscire dal formato che è quello delle piccole superfici integrative e vai nella direzione di quelle mastodontiche come questa, le carte in tavola cambiano significativamente, perché di queste ne ha fatte che le conti sulle dita delle mani, ma non di queste come quella che vedi qui, di queste intendo quelle che superano il formato ragionevolmente contenuto di, ripeto, 90 per un metro e 40, insomma, di quelle grandi la metà, di quelle veramente grandi, se ne ha fatte tante, ne ha fatte una decina, io ne ho viste cinque grandi così, nella mia vita ne ho viste cinque, ne ho viste solamente cinque in tutta la vita, ho avuto modo di parlare con Enzo Cacciola, delle superfici integrative, quindi di sapere in maniera molto precisa, proprio direttamente da lui come fonte, quali sono state, i livelli produttivi in relazione ai formati, e di quelle grandi, lui ha proprio espressamente usato il termine, ne ho fatte che le conti sulle dita delle mani, e le mani, se uno abita sulla Terra, sono dieci dita, cinque più c'è, poi non so, marziani, alieni, quante dita c'è, non lo so, noi sulla Terra, abbiamo cinque dita per mano, quindi si tratta mediamente di dieci, no? Dico mediamente perché, ripeto, uso il termine, uso il fattore relativo della media planetaria, ecco, quindi si tratta mediamente di una decina di opere, quando si usa il termine fatti sulle dita delle plurali mani, signore e signori, significa accogliere una possibilità nella vostra collezione, e anche qui, significa accoglierla utilizzando le permute al 50%, che vuol dire spendere un cavolo rispetto a quello che in questo momento vi stanno chiedendo, cioè, 24 mila euro con le permute al 50%, uguale spenderne 12, va bene, gli altri 12 si permutano, ora, se vai a comprare quelle grandi la metà, quindi molto più piccole, e anche più semplici da trovare in circolazione, perché ne ha fatte un po' di più, quindi, se vai a comprare quelle grandi la metà, ormai spendi 18 mila euro per comprare quelle, ora, è vero, tu dici sì Ale, ma qui infatti è 24, non è 18, sì, ma in soldoni ne stai spendendo 12, stai spendendo il 50% in meno, scusami, di quello che spenderesti per andare a comprare una cosa grande la metà, poi voi mi direte, sì Ale, ma poi, se la compro, costerà 18, sì, ma di listino, poi io mi metto lì, tratto, litigo, combatto, faccio agomitate, insisto, glieli do tutti e subito, allora, tutto giusto, tutto come dite voi, è sempre di 14, 15 mila euro, ormai si parla, no? Sempre di quello, più o meno, ormai si parla, fatevi bene i vostri calcoli, fate bene le vostre considerazioni, perché, anche qui, alle condizioni alle quali ve la stiamo proponendo, in virtù anche di quanto è rara quest'opera, è evidente che il consiglio è quello di non perderla, è chiaro che il consiglio è quello di dire, ok, grazie, mettimela via, poi, è chiaro che bisogna parlare delle permute, insomma, è chiaro che bisogna, come sempre, ne parlo molto spesso, soprattutto in questi giorni in cui ho, in questi mesi, in questi ultimi mesi, insomma, la fine del 22, l'inizio del 23, mi hanno dato veramente la possibilità, di dialogare con tanti collezionisti, veramente tanti, e con tutti loro, io ho espresso l'esigenza da parte di questa azienda, che quando si tratta di permute, poi ci sia un equilibrio oggettivo, tra quello che tu mi proponi, e quello che io ti propongo, io sto nel mercato, e tu devi stare nel mercato, perché altrimenti, è chiaro che si rompe la ruota, tanto per capirci, però è una precisazione, che mi rendo conto, è sempre meno utile, è vero che ci sono delle cose che vengono prenotate, poi non si vendono, perché non si trova la quadra, e di questo ci siete testimoni, perché noi in maniera molto trasparente, senza fare barbatrucchi, senza fare la finta, tanto per capirci, tranquilli, le prendiamo, se non si vendono, tranquillissimi le prendiamo, le rimettiamo in diretta, e lo diciamo proprio, guarda, era stata provotata, non si è trovata la quadra, è una cosa che ogni tanto mi sentite dire, senza barbatrucchi, ripeto, che non sono minimamente necessari, quindi, a volte ancora succede, che ci sta, uno giustamente dice, senti, io ho da permutare o questo, voglio questa cifra, se la prendo, la prendo, se non la prendo, Pax et amore dei, pazienza, vuol dire che non facciamo l'operazione, e va bene, lì vieni messo con le spalle al muro, e molto tranquillamente rispondi, guarda, ok, grazie, non mi interessa, e non fai l'operazione, però, succede, veramente, sempre, 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 sempre meno, è sempre più raro, che un collezionista, ti costringa a dire, no, cioè, è questo equilibrio, della permuta, è sempre più, diffuso, devo dire, e ovviamente, anche di questo, noi siamo grati, nella direzione, del pubblico, che ci segue, e che ci sceglie, per arricchire, le proprie collezioni, con opere d'arte nuove, spesso, davvero, di grande qualità, quindi, grazie infinite, ripeto, per il crescente equilibrio, adottato dal pubblico, che ripeto, se non fatte salve, eccezioni, sempre più rare, è ineccepibile, e non ha bisogno, di essere sottolineato, io continuo, in realtà, a sottolinearlo, non per chissà, quale strano motivo, cioè, non in contraddizione, tanto per capirci, con quello che ho appena detto, continuo a sottolinearlo, perché, un'altra cosa, che sta accadendo, però, è che, ci sia, anche un numero crescente, di nuovi collezionisti, che si rivolgono ad arte atelier, e questo prevede il fatto, che sia opportuno, più che mai, di questi, no, in questo momento, in cui, ci sono veramente, tante persone nuove, che ci stanno chiamando, che ci stanno contattando, che ci stanno scegliendo, per, no, per acquistare, opere d'arte, ecco, credo che sia, opportuno con loro, essere molto trasparente, e spiegargli, cosa significa, che facciamo delle permute, facciamo delle permute, stando nel mercato, nel mercato, è il prezzo, di quello che ti propongo, nel mercato, deve essere il prezzo, di ciò che porto a casa io, altrimenti, se io devo pagare una cosa, tre volte quello che vale, poi ti vendo un'opera, al prezzo, del prezzo corrente di mercato, è chiaro che il meccanismo, non può funzionare. Grazie. Grazie mille, stavamo facendo una panoramica, tranquilla e rilassata, poi pubblico e ringrazio, da subito ha iniziato a, perfezionare alcune richieste, che si sono andate nella direzione sia di griffa che di cacciola, cosa della quale naturalmente siamo grati, ora speriamo, chiaramente, che queste direzioni si concretizzino anche nella scelta fattiva di confermare le opere, e farle evidentemente a seguito della giusta trattativa che avremo, ecco, di farle entrare nella vostra collezione. Frattanto, proseguiamo, proprio perché così arriviamo in fondo, e anche in tempi brevi, devo dire, rispetto alle nostre abitudini, ad una prima e conclusiva panoramica, le opere al numero 19 e 20, sono del maestro Marchegiani, con una grande grammatura di non colore del 1977, opera anche propedeutica per la comprensione delle lavagne oro, e tu dici, ma scusami, cosa c'entra una grammatura di non colore? Cosa c'entra un'opera realizzata nero su nero, con una lavagna oro del maestro Marchegiani, che è realizzata con la foglia oro, non c'è niente di più brillante al mondo, ecco, poi ci rinfreschiamo la memoria anche per comprendere questo. Subito dopo, di Eugenio Carmi, c'è un pezzo molto, molto bello, allora, molto bello, io anche qui sono di parte, Carmi lo adoro, Eugenio Carmi è un artista, per il quale io ho da sempre una grande, non è vero da sempre, mi è sempre piaciuto il suo lavoro, però ho cominciato a vederlo con degli occhi diversi, dopo aver conosciuto Carmi, che era, vabbè, un intellettuale, che era un uomo con una preparazione enorme, che era un uomo molto elegante, ma non al di là adesso del portamento, molto, con un'eleganza intellettuale, sempre molto, sempre molto raffinato, anche nella dialettica, nel modo di confrontarsi con l'interlocutore, aveva una dialettica molto ricca, era un uomo estremamente preparato, ed era anche un uomo estremamente preparato, proprio dal punto di vista tecnico, era un grandissimo pittore, era un grandissimo tecnico della pittura, oltre ad essere un grandissimo artista, non vanno sempre a braccetto le due cose, non è automatico che un grande artista sia anche un grande tecnico della pittura, o viceversa, ecco lui è uno di quelli che riusciva ad eccellere in entrambi gli ambienti, cioè sia come tecnico della pittura, sia evidentemente come intellettuale, che seguiva un profilo culturale molto netto, che era quello a strato geometrico. Ora io ho in mano un libro, perché? Perché il pezzo, che è un pezzo del 2006, è una tela 60x60, che è pubblicato qui, allora, a cura di Martina Corniati, è Eugenio Carmi, 3 miliardi di zeri, titolo della mostra, che è una mostra, eccolo qua, per le edizioni Carta, scusate, sono partito in quarta dicendo il libro di una mostra, quindi cercavo la data, ma no, questo è proprio un testo, è proprio il classico testo di riferimento, che è stato scritto esso stesso nel 2006, quindi per le edizioni Carta, ripeto, quindi è dello stesso identico anno dell'esecuzione del quadro, ed è un libro estremamente ben pensato, io lo sfogliavo oggi, perché guardavo anche le opere, anche le altre opere pubblicate, noi purtroppo pubblicate qua sopra, abbiamo maledizione solamente questa, almeno ad oggi, poi speriamo di riuscire, speriamo di riuscire a trovarne altre, è che io ero convinto, in realtà però, vedi, adesso vi sto dicendo questo, ma io ero convinto che questo fosse il libro di una mostra, e se ne sono convinto, è probabilmente perché lo è, solo che non riesco a trovare, adesso così su due piedi, non riesco a trovare riferimenti, aiutami, scusami, sulla scaletta cosa c'è scritto? Tranquilla, numero 20, pubblicazione o esposizione nella scheda tecnica? Pubblicazione, allora no, vedi, non è una mostra, ma chissà perché mi ero autoconvinto di una roba sbagliata, chiedo scusa, niente, ripeto, anche in questo senso, lo studio fatto sul pdf, per fortuna c'è sempre da ausilio, perché è fatto piuttosto bene, devo dire, e se i libri sono figli di una mostra, trovate la voce esposizione o esposizioni, se invece si tratta proprio di bibliografia pura, trovate la voce pubblicazioni, quindi quando c'è scritto che si tratta di una pubblicazione, è perché è un libro punto, ok, non è il libro che arriva da una mostra, se il libro arriva da una mostra, il nostro pdf ha delle diciture molto standard, c'è scritto esposizioni, mostra a cura di fatta in quel posto là, in quelle date lì, pubblicato in catalogo a pagina XYZ, ok, questo è una cosa che facciamo anche per aiutare proprio noi stessi, mentre lavoriamo, perché diciture precise, ci danno la possibilità di capire in maniera precisa, noi per primi, di cosa stiamo parlando, e ripeto, nella mia testa 3 miliardi di zero, non era semplicemente il bel libro che ha fatto la Martina Corniati, ma era il titolo di una mostra che io avevo la sensazione di ricordare, e invece mi sbaglio, mi sbaglio alla star grande, succede, ok, non vogliatemene, allora 60x60 cm di formato, pezzo stupendo, anche per, devo dire, anche dal punto di vista della scelta cromatica, il pezzo è molto bello, c'è questa sorta di luce, no, tu vedi dei colori molto scuri, tutti attorno, no, che seguono il profilo della cornice del quadro, poi improvvisamente come una luce, no, che si accende, boom, al centro del quadro, e quindi i verdi diventano rosa, i verdi scuri diventano salmone, e il nero improvvisamente rivela il rosso, e il blu si trasforma in bianco, e via dicendo, proprio, no, quello che accade quando una luce punta verso il buio, e ti rivela quello che si nasconde oltre l'oscurità, è un pezzo, un pezzo che è molto come Eugenio Carmi, cioè molto raffinato, pezzo è un 60 per 60, ripeto, proposto a 4.000 euro, con le permute al 50%, che vuol dire spenderne 2.000, gli altri 2.000 li potrete permutare, e anche qui, naturalmente, la mia, no, il mio invito, è quello senza indugio di natura alcuna, di scegliere, no, di scegliere l'opera di Carmi, e portarla in collezione, esattamente come in realtà tutte le altre opere, che questa sera avete a disposizione, però, Davide, una cortesia, guarda, rifai tutto il percorso a ritroso, una volta che hai finito di ripercorrere tutto il set, così il pubblico, laddove lo desideri, ci può serenamente interpellare, per chiederci, no, di vedere barra rivedere le opere che sono oggetto del suo interesse, ecco, mentre accade questo, io vi anticipo che laddove voi non doveste intervenire, mi fermerò un attimo sui lavori di Spadini al numero 9 e al numero 10, sono contento di avere questa sera a parete, che sono anche un modo per parlare proprio di quello che sta succedendo. Grazie. 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 Allora, eccoci, torniamo sulle opere, stiamo arrivando, sulle opere di Spadini, abbiamo rivisto tutto il set, e naturalmente siamo e rimaniamo a disposizione del pubblico di arte atelier laddove voglia assieme a noi interloquire in relazione a una qualsiasi o più tra le opere esposte a parete, ma nel frattempo io voglio concentrarmi un momento su questi due lavori di Spadini, era parecchio tempo che non mettevo a parete due tele di Fabrizio, che è di nuovo protagonista per la terza volta, è protagonista a Roma terza volta in tre anni, quindi, insomma, Roma sta veramente dando molto a Fabrizio, nella misura in cui lo ospita sempre più frequentemente, ed è tra l'altro una bellissima piazza, quindi lui fa benissimo ad andarci, tanto per capirci. Detto questo, questa volta è il turno di Palazzo Merulana, che gli sta dedicando una splendida personale, devo dire anche veramente allestita molto bene, forse Fabrizio ha fatto delle mostre bellissime, nel corso degli ultimi quattro anni, che io ho avuto spesso e volentieri il piacere di seguire assieme a lui, ed erano mostre straordinarie, ma questa ha proprio un sapore istituzionale che è quasi nuovo, in un certo senso, quindi è una mostra che siamo veramente contenti che Fabrizio stia facendo, del resto, anche se lo vediamo meno frequentemente nelle nostre trasmissioni, naturalmente lui è e rimane quell'artista del quale abbiamo sempre parlato, parlandone, ma non tanto bene, ma rendendogli giustizia in relazione al talento e alla capacità che lui ha di essere veramente un contemporaneo destinato a sfondare. c'è proprio un timbro che è nuovo, che è diverso, ci sono moltissimi valori aggiunti dentro la pittura di quest'autore che fanno delle sue opere, le opere di un contemporaneo che può veramente sbancare, ma anche sul piano internazionale. Ormai tra l'altro, allora, parliamoci chiaro, è sempre più frequente che io mi imbatta nelle opere di autori che disegnano, dipingono, i robottoni, eccetera, no? Perché? Perché a Spadini, al di là di tanti meriti, ne va riconosciuto, secondo me, uno sopra tutti gli altri, che è quello di avere letteralmente sdoganato in pittura un genere che prima non esisteva, ragazzi, io ho iniziato a presentarvi le opere di Fabrizio Spadini nel 2019, io vi prego di mettere indietro l'orologio, vi invito a mettere indietro l'orologio e vi chiedo quante opere d'arte che hanno a che fare con il tema iconografico che tratta lui, voi avete visto in circolazione prima di vedere i quadri di Spadini. Vi rispondo io perché la domanda è retorica e lo è anche la risposta e la risposta è zero. Zero. La risposta è zero. Perché era un tema non sdoganato. Era un tema che bisognava ancora iniziare ad affrontare. Era un tema che doveva nascere e che presto o tardi era inevitabile che nascesse. Perché poi queste icone sono le icone di che cosa? Della giovinezza della nuova classe dirigente. Quindi, ormai sono un tema che ha proprio a che fare con la cultura nel senso più stretto del... Ma, che è così lo capiamo da tutta una serie di fenomeni internazionali, da tutta una serie di fenomeni che hanno luogo ormai in tutto il mondo, che vanno dritti come dei fusi proprio nella direzione di queste icone. cioè, quando a Kyoto in Giappone fanno come attrazione no? Come grande attrazione fanno il Gundam in scala uno a uno che la gente dall'esterno può guardarlo prego che la gente dall'esterno può guardare muovere ma non è che serva chissà che cosa quando qui in Italia due stati fa una bravissima autrice contemporanea ha fatto comparire nel bel mezzo della Toscana nel bel mezzo delle colline toscane compare questa grande scultura che è il famoso maglio perforante di Goldrake che in verticale alto adesso mi sembra tre metri era realizzato in legno se la memoria non mi inganna viene fuori bellissimo in mezzo a queste colline un lavoro tra l'altro poetico di un bello e le parlano tutti i giornali signore e signori vuol dire che il tema si sta sempre più sdoganando e sta sempre più diventando cultura ma noi non possiamo esimerci da non riconoscere a Spadini quello che è di Spadini e quello che è di Spadini è che lui di questo linguaggio è e verrà ricordato dalla storia dell'arte non ci sono menate come il vero capo scuola quello che questo linguaggio lo ha de facto sdoganato e lo ha letteralmente preso e trasportato dal suo ambiente teoricamente di pertinenza secondo il credo popolare che era l'illustrazione lo ha preso e lo ha portato nel mondo della pittura lo ha fatto lui questo non è che allora Spadini mi piace non mi piace mi interessa non mi interessa qui poi ognuno giustamente ha il suo mood e ovviamente fa le sue scelte ma i fatti storici non sono mai oggetto di discussione sono fatti il fatto storico primo è che lui di questo linguaggio è indiscutibilmente il capo scuola ed è indiscutibilmente colui il quale lo ha sdoganato tutto il resto poi è venuto dopo detto proprio con grande e serena franchezza ok per l'amor del cielo questo è semplicemente un motivo di vanto è una cosa che nel tempo gli varrà più ancora capite un altro grande valore aggiunto del lavoro di Spadini sapete qual è il concetto di artista colto allora altro limite che normalmente ha questo soggetto quando lo ritrovi nel mondo della pittura è decorativo la maggior parte delle opere d'arte o dei quadri o delle delle illustrazioni stesse delle decorazioni sono semplicemente decorative non hanno velleità che vadano oltre il fatto di decorare la parete sulla quale sono appese le opere di Spadini hanno un altro grande valore aggiunto che è Spadini perché Spadini è un uomo profondamente colto e quindi nelle sue opere d'arte io vi parlo dei quadri di Spadini a tanto tempo lo faccio con piacere vi dico tutta una gamma di cose e boom a volte il discorso si riassume in dieci minuti un quarto d'ora mezz'ora quando proprio mi piglio bene che vi voglio raccontare un sacco di cose è finita lì Spadini di un quadro ti parla due ore si mette lì e smonta completamente il quadro e riferimento per riferimento ti spiega perché questa è una piazza d'Italia perché poi lo vedi no? è una piazza d'Italia questo grande combattimento sta avendo luogo su un palcoscenico e questo palcoscenico ha veramente molto l'aspetto di una piazza d'Italia di Giorgio De Chirico guarda il lato destro guarda il lato sinistro eccetera 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 ti spiega tutta la poetica delle esplosioni da dove arrivano questo suo improvviso desiderio di provare a entrare anche nel mondo dell'astrazione attraverso qualcosa che comunque arriva dal suo territorio che è quello del manga o se vogliamo della televisione per i ragazzi degli anni 70 i grandi cartoni animati tanto per capirci le esplosioni se fai un fermo immagine delle deflagrazioni durante i vari combattimenti che ci sono nei cartoni animati giapponesi dei robottoni sembrano quadri astratti c'è questo totale dell'esplosione sul teleschermo tu fermi l'immagine e dici cavolo ma è un quadro astratto è un'opera d'arte non è un disegno ed è un'opera d'arte astratta ok? quindi c'è c'è un milione di contenuti sempre e poi c'è questo suo essere veramente altro valore aggiunto ancora veramente contemporaneo non tanto e solo per l'iconografia ma anche per i temi per il dibattito che c'è dietro a ogni opera di Spadini che non è mai un dibattito dove lui Spadini come tutti gli esseri umani è ovvio che ha delle opinioni e che ha delle posizioni sue che poi magari in amicizia quando si chiacchiera vengono fuori ci mancherebbe altro ma un conto è la persona un conto è l'artista e lui queste due cose le scinde molto bene dentro le opere d'arte non c'è mai un giudizio ma sempre un argomento di riflessione che lui ti propone giudizio lo lascia a te lui ti offre uno spunto per riflettere pensare meditare interrogarsi non lo so romanzo di formazione anche Atanor è un quadro pieno di contenuti ma romanzo di formazione è una tela tela un metro per un metro lui tra l'altro è uno dei quadri progenitori degli NFT che sono stati fatti proprio per la grande mostra che c'è stata a Roma che è stata una mostra fatta in parallelo se parliamo delle tele erano esposte da Medinar Gallery se parliamo delle tele con a fianco le opere gli NFT proiettati su teleschermi che erano ciascuno messo di fianco alla tela dalla quale era nato solamente cinque tra l'altro si parla evidentemente della fiera dei comics di Roma che gli dedicò uno stand l'ente fieristico volle dedicargli uno stand ed invitare tra l'altro è una cosa che ho molto ecco questa di Romics è una cosa che ho veramente molto apprezzato cioè Romics ha voluto invitare Spadini perché ha voluto dimostrare in un certo senso che quell'ambiente quello del comics che è considerato un gioco non è mica poi tanto un gioco ci sono moltissimi artisti che fanno tavole che fanno che fanno poi lavori sono illustrazioni ma questo non vuol dire che in alcuni casi non siano veramente opere d'arte e però nonostante questo sono sempre considerati gente da carta stampata che si fa le pubblicità e quando non gli danno le pubblicità da fare allora si mettono a fare le strisce i comics beh non è così per niente e Romics l'ha voluto dimostrare portando letteralmente un artista che affronta i temi che poi ritroviamo dentro i comics in forma di opere d'arte dimostrando che sta avendo luogo un grande cambiamento culturale io questa cosa di Romics l'ho apprezzato tantissimo perché è stato il primo grande allora bel gioioso lo ha fatto prima ancora per l'amor di Dio non si discute è stata una scelta straordinaria e coraggiosa ma è una fiera più piccola quella di bel gioioso come si chiama Roma per Roma è stata una scelta anche coraggiosa per l'ente fieristico romano insomma non è stata una cosa da poco di artisti potevano invitare chi volevano e chiunque davanti guardate quando dico chiunque intendo proprio chiunque qualsiasi grande artista avrebbe tranquillamente detto sì vengo non c'è problema perché Romics stacca in quattro giorni stacca cento dieci mila biglietti è una visibilità che fidatevi non si lascia sfuggire nessuno neanche il grande radical chic di turno se la lascia sfuggire ci va fidatevi che ci va perché vi serve quindi ci va ok anche se poi fa lo schizzinoso ci va lo stesso credete a me ok quindi scusate ma ho voluto aprire e chiudere questa parentesi attorno a Romics perché perché secondo me ha fatto una scelta giusta intelligente coraggiosa e che infatti poi è stata premiata dai numeri dai servizi anche in quel caso sui telegiornali non solo Tg3 Regione ma anche in quel caso Tg2 Nazionale andò in onda e parlò di Romics oltre a parlare di Romics tra le cose che sono state menzionate c'era lo stand di Fabrizio Spadini quindi scelta azzeccatissima anche quella fatta da un ente fieristico competente e attento ai cambiamenti che hanno luogo nella società bravi ripeto chiusa parentesi detto perché poi ci sono scusate finisco ci sono altre grandi fiere del comics in Italia però sono lì che tergiversano boh che aspettano la venuta del messia ok quindi bravi 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 quelli di Romics detto questo ripeto romanzo di formazione che è il pezzo al numero 10 è proprio un quadro che ci illustra che ci che ci fa capire quanto sia in un certo senso importante le radici dalle quali noi proveniamo e quanto sempre in un certo senso siano disseminate un po' su scala globale allora è difficile è difficile dipingere una crocifissione quando un artista sceglie di dipingere una crocifissione vuol dire che si sceglie dei competitor cioè si sceglie delle opere che sono nell'immaginario collettivo le crocifissioni di altri grandi maestri della storia dell'arte che sono quadri con i quali è difficile cioè sono quadri con i quali non è semplice avere a che fare cioè non è facile avere a che fare con Giotto perché uno eh scusa uno dice crocifissione uno dice sua maestà Giotto uno dice crocifissione un altro dice Guidoreni e prega ok e via diciamo possiamo fare esempi a non finire quindi ti scegli una bella gatta da pelare quando scegli di fare una crocifissione quando tu artista scegli di dipingere una crocifissione eh amico mio auguri perché ti sei scelto un territorio mica semplice nel quale entrare ok Spadini di nuovo risolve una cosa teoricamente così complicata facendo cosa usando la cultura molto semplice la cultura molto più della fede ogni tanto in questo paese il nostro c'è questo curioso dibattito su togliamo la croce dalle scuole togliamo le croce dalle classi dagli ospedali togliamola perché siamo uno stato laico allora la croce intesa proprio in senso visivo ma al di là della croce la cristianità in senso più alto è prima ancora che una fede religiosa è una cultura gli occidentali non possono prescindere dal fatto di essere culturalmente cristiani poi possono essere atei religiosi ma sono due cose distinte e separate la cristianità è prima di tutto dimmi scusami allora piacentino in conferma grazie mille grazie e complimenti ho sentito ti sentivo ho sentito un nome di battesimo non ho però poi dopo mi direi di chi si tratta io intanto gli rivolgo i miei complimenti e lo ringrazio moltissimo allora in conferma la bellissima scultura di Gianni Piacentino bravo grazie complimenti detto questo stavo dicendo il cristianesimo è prima di tutto cultura noi al cristianesimo dobbiamo il 90% della produzione artistica occidentale voi togliete la chiesa alla commissione artistica dal medioevo in su in particolare è finita finita il 90% scompare noi alla chiesa dobbiamo moltissimo in relazione all'istruzione le prime facoltà qui in Italia le prime facoltà chi le ha aperte l'amico tuo no no arrivano dalla chiesa erano ecclesiastiche le prime istituzioni legate all'ambiente dell'insegnamento sono state ecclesiastiche adesso possiamo possiamo andare avanti a non finire ma lì il tema non è dire grazie alla chiesa è rendersi conto che c'è un frangente culturale alle spalle tale per cui noi abbiamo una formazione ripeto metti via mettila via alla religione non ci interessa ci interessa il frangente culturale dal quale noi arriviamo proveniamo nell'ambito del quale siamo che ci piaccia o no cresciuti ma non è una cosa che pretendo di dirvi ascoltate vi prego i grandi luminari tra l'altro per niente schierati dalla parte della chiesa vedi ad esempio no Umberto Calimberti che non ditemi che è proprio dalla parte opposta però senza la minima ombra di dubbio lui vi dice esattamente questo per fare l'esempio di un grande intellettuale di un grande luminare che ringraziando il Padre Eterno ha passaporto italiano cioè è un grande luminare italiano insomma io lo seguo con grande passione e attenzione e sto un po' facendo il pappagallo sai perché ad esempio questa è la sua posizione dimmi certo che lo facciamo rivedere ma lo facciamo subito poi torniamo sulle opere di Spadini perché voglio finire di parlare di romanzo di formazione allora grazie buonasera ben trovato eccolo il pezzo voglio farle vedere anche una cosa amico caro che è la seguente allora io odio toccarlo con le mani senza i guanti perché è lucidato eccetera rimangono le ditate poi il povero Roberto si deve mettere lì a lucidarlo da capo eccetera quindi sa cosa faccio? faccio semplicemente così e tu Davide se riesci anche se ti rimarrà sotto sopra pazienza il pezzo alla base è firmato ed è datato come vede non c'è numerazione il pezzo è unico uno soltanto non è uno di otto uno di sette uno di nove uno di cinque uno di quattro uno di tre cioè una delle cose che mi mandava ai pazzi nel non vedere andare in conferma questo lavoro di Piacentino sa che cos'era? proprio il fatto di avere a disposizione datato 86 un lavoro che è uno perché io capisco se magari uno davanti al multiplo in otto esemplari scusami davanti al pezzo unico chiedo scusa ma tirato in cinque sette otto esemplari dice no preferisco un unicum preferisco uno solo ok ci sta posso capirlo io personalmente non lo condivido la Venere Blue di Fclan è un multiplo così giusto per ricordarlo ok però vabbè ognuno giustamente vede le cose a modo suo quindi diciamo che posso capire non lo approvo ma lo capisco mettiamola così ma nel momento in cui a questo cifra 9.000 euro che per la metà trasformi in opere della tua collezione quindi non spendi quindi 4.500 euro degli anni 80 mica del 2012 perdi un lavoro di Piacentino che porca miseria ce n'è uno solo ma quella per me era pazzia rivediamo anche ti prego nel dettaglio Davide adesso vedi alla fine comunque scusa eccomi fai rivedere a questo amico il pezzo che è realizzato con quest'anima in legno e poi gli inserti in metallo poi è dipinto con la pittura al nickel pezzo perfetto assolutamente perfetto come deve essere poi Piacentino certo un pezzo dell'86 quindi comunque poi ha magari anche le imperfezioni del legno ma del legno non è che è stato graffiato eccetera il legno per quanto tu ti metti lì comunque ha sempre qualche piccola imperfezione pezzo bellissimo e adesso la televisione in questo senso magari potrebbe un pochino come dire creare mezzo malinteso non è nero è blu notte è proprio un nevi estremamente non è nero ci tengo a precisare questa cosa perché in televisione potrebbe sembrare nero ma non lo è è proprio un blu scuro 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 ma è blu infatti se non erro si intitola blue bacon eccetera eccetera ok perfetto model non bacon model grazie molti complimenti adesso per il momento lo lascio lì poi con grande attenzione lo metto perché ha una sua ha una sua eh ciao dark blue dark blue record vehicle model 1 ok quindi dark blue blu scuro che era il pezzo del titolo che ci interessava ok grazie mille quindi blu scuro come recita la titolazione la titolazione stessa grazie molti complimenti poi ripeto visto che ha la sua ha la sua custodia che è da queste parti se la mia amore non mi inganna cioè ha proprio il suo eh sì è qui però adesso Roby deve averlo messo via non so dov'è poi dopo Magna ce lo cerchiamo il suo astuccio e la mettiamo via come si deve perché queste robe qui non sono delicate di più d'altro canto non consiglio di inserirlo in una teca eh punto 1 perché diventa difficile poi fissarlo sulla teca e non voglia mai il cielo che a qualcuno venga l'idea di perforare il legno perché lì veramente poi lo butti via cioè la scultura non si può toccare non è untouchable completamente quindi punto 1 ci sono delle problematiche oggettive proprio nel capire poi se gli faccio una teca come lo fisso su questa benedetta teca primissima cosa ed in secondo luogo il plexiglass è un po' diverso dal vetro il vetro c'è il vetro museo uno dice io faccio no copro un quadro piuttosto che realizzo una teca in vetro museo il vetro museo veramente non lo vedi non c'è il plexi anche quello cosiddetto museo non è mai perfettamente trasparente o quasi mai e quindi il risultato finale è che ti fa sempre il riflesso e poi l'opera non la vedi e non te la godi è meglio metterla in una posizione particolarmente protetta senza metterla sotto la campana di vetro ok lo metti in una posizione dove nessuno che non sappia come deve trattarla la può raggiungere cioè tipo lontano dai bambini perché qui la prima cosa che fa un bimbo ve lo dico da papà è come lo vede ci si avvicina lo agguanta con tutte e due le mani e la prima cosa che fa è lo lancia per vedere se girano le ruote cioè ecco ecco una cosa che non deve accadere assolutamente perché lì è proprio pericolo totale ecco una cosa e la prima cosa Grazie a tutti. 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 Se no, devi solo che stare muto. Grazie a tutti. 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 mondino, 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 etc. Non ci mancano gli argomenti. Non ci mancano assolutamente anche questa sera gli argomenti. Grazie a tutti Un metro e quarantacinque per un metro e venti, stiamo parlando di Emilio Scanavino naturalmente, quindi è il numero uno. Oddio scusatevi, è andato di traverso l'acqua, perdonatemi. Allora, olio su tela, un metro e quarantacinque per un metro e venti, siamo nel 1963. Ora, non ci sono molti modi per pretendere di approfondire un tema come questo. Dal punto di vista storico lo abbiamo, credo, fatto, lo abbiamo fatto domenica. Dal punto di vista storico è anche qui del linguaggio di Scanavino, molto indipendente, molto interessante, più che affascinante, oggettivamente interessante. Qui, la cosa che secondo me è un pochino, onestamente, vi è scappata via, è tutta quella parte di discussione che ruota attorno al valore oggettivo del quadro e anche attorno a quello che è un prezzo oggettivo sul mercato di un quadro così di Scanavino. Ora, uno va a vedersi le aste e sicuramente Scanavino, insomma, è in una fase nella quale magari non siamo sulla cresta dell'onda. Si trovano, alcuni quadri si trovano anche a buon prezzo, in maniera interessante, li avremmo pagati molto di più un tempo. Però comunque, sai, un bel 50 per 50, tanto per capirci, va adesso di recente in asta, perché comunque, insomma, era dicembre, e comunque ti spara 17 mila euro. Un bel 50 per 50, no, dici un metro per due. Un bel 50 per 50, 17 mila euro fatti quando? Il 20 dicembre del 22. Quindi, mo, adesso, ok, oggi è 2 febbraio, stiamo parlando di un mese e qualche giorno fa. Uno continua a guardare i risultati delle aste e trova anche dei quadri che hanno fatto meno, per l'amor del cielo, ma trova anche tante cose che sono attestate sostanzialmente attorno a questi prezzi. Poi c'è anche il 100-100 che ti fa, sempre a dicembre, 15 mila euro più i diritti, nonostante fosse, secondo me, un bellissimo quadro degli anni 70, che vuol dire che alla fine ne fa 19, quindi una ventina di migliaia di euro, ma ragazzi, è un metro per un metro. Anche quello non era un quadro ruffiano, ma era un quadro, secondo me, molto bello, molto colto, un quadro da avere in collezione, e fa 19 mila euro. Comunque, non è che Scanavino, mo, costa 1500 lire, se ti vai a comprare una cosa un metro e quarantacinque per un metro e venti di Scanavino, ma se un 100-100, anche lui tra l'altro non ruffiano, non dici il quadro ruffianissimo, il 50-50 che ha fatto infatti più o meno la stessa cifra, guarda caso, era un quadro ruffiano, perché era tutto rosso, cioè, no, una storia già scritta. Ora, non voglio usare quello come risultato, perché quello era un quadro ruffiano, bello, interessante, ok, andiamo su una cosa tipo questa, cioè un quadro bello, colto, raffinato, interessante, ma non ruffianissimo, e comunque nel formato di un metro per un metro, ti fa 20 mila euro, perché è quello che ci vuole, perché è quello che costa, perché capisci che le cose si possono pagare un po' meno se un artista entra in una fase di, come dire, no, di, sì, di calmeramento del prezzo, ma non è che uno che ha speso 50 mila euro ti diceva, vabbè, dai, dammene 5, va bene così, no, cioè le opere di Scarabino sono state pagate in alcuni casi, sono state pagate delle cifre, ragazzi, ma delle cifre, quindi meno di tanto ancora oggi non possono costare, infatti non costano. Ora, lì a parete c'è un'opera imponente del 63 di qualità, di formato, pubblicata sul catalogo generale con la provenienza di Valente, di Finale Ligure, quindi 28 mila, giusto Venix? Con le permute al 50%, cioè ma con 14 mila euro comprate una cosetta, scusate, comprate una cosetta di Scanavino, non comprate una roba del genere. Secondo me, quello che, però sai, domenica c'erano tante, siamo un po' alle solite, domenica lui era inserito in un contesto dove è Epiteralle, è Alviani, è questo, è Burri, è, sì, ok, magari uno si perde un attimo attorno a cose che sono anche più sulla cresta dell'onda, le desidera, va tutto bene, io stasera questa tela l'ho voluta e l'ho voluta in inquadratura, cioè l'ho voluta proprio come primo argomento non appena la telecamera si fosse accesa, perché guardate che vedervi perdere una cosa del genere, a delle condizioni del genere, è assurdo, è lunare, è proprio lunare, uno poi per l'amor del cielo può dire non è il mio quadro, non mi piace, non mi interessa Scanavino, non ci credo, non credo che possa tornare a cre... ci sono mille diverse posizioni e tutte ugualmente rispettabili, e fin qui, no? E fin qui di dubbi spero che nessuno ne abbia, ma al di là delle mille diverse e rispettabilissime posizioni, poi c'è comunque un quid, c'è comunque qualcosa che riguarda poi squisitamente l'artista, la sua produzione e l'opportunità che è rappresentata da una tela che è veramente proposta a condizioni di prezzo che sono surreali, che poi guardate, sai qual è la fine che fa questo quadro? Che va in asta e lo pagate di più, poi finisce così, e senza le permute lo comprate e lo pagate. Io, cioè, io vi invito a sfruttarle le opportunità quando vi capitano, e non aggirarci attorno finché poi le perdete. Noi in questi giorni, in questi giorni, nell'ultimo mese e mezzo, guardate che noi di telefonate, di ma hai ancora quel quadro, ma c'è ancora quella cosa là, ma quella cosa lì ce l'hai ancora, ma quella cosa là, ma ce l'hai o l'hai venduto, guardate che ne stiamo ricevendo tante. E che una volta che poi i quadri si vendono, la loro natura, che è quella della unicità, i quadri sono pezzi unici, sono uno, soltanto uno, solamente uno, quello che vedi nel momento in cui, no? Quello che hai davanti agli occhi nel momento in cui hai l'opportunità di pronotarlo. Finché c'è, c'è, quando poi non c'è più. Quando poi non c'è più non c'è il doppione, non c'è la copia, non è un multiplo, non è moltiplicato, è uno, è quello, è quello lì, capite? E' quello lì, è quello lì, non ce n'è un altro. Non c'è la possibilità di sostituirlo con un'altra cosa. Sì, puoi andare a scegliere un altro quadro, questo è chiaro. Uno dice, vabbè, ok, ho perso quello, vado a comprarne un altro. E per l'amor di Dio, uno lo vuole fare, lo fa. Io non discuto mica, non ho minimamente la presunzione di discutere, non ho mica l'unico scanavino che esiste sul pianeta. Nel scanavino c'è un catalogo generale pieno di quadri, uno ne trova un altro. Se gli piace altrettanto o di più lo compra, ma il tema rimane, vediamo quanto lo paghi. Vatti a scegliere una cosa che sia un metro e cinquanta per un metro e venti, come questa, di scanavino, e vediamo quanto te la fanno pagare. Perché con quattordici mila euro non te la fanno vedere, ma manco col binocolo te la fanno vedere, amico mio. E questa è un'altra cosa che so io e sapete voi. Quindi veramente non si spiega questa, non so come dire, no? Questa ideale distanza che state creando tra voi ed uno dei più grandi maestri della storia e della nostra pittura informale che abbiate la possibilità di far entrare in collezione. Sono un po' stranito di questa scelta. Scelta che naturalmente, cioè il quadro è lì, proprio affinché il pubblico abbia una possibilità di correggere questa, no? Questa posizione che spero sia una posizione momentanea, una posizione destinata a cambiare, una posizione che poi vede il pubblico nella gradita situazione di poterci chiamare, confermare il quadro, parlarne assieme a noi a condizioni che sono strepitose. Io su questo in particolare mi sento dibattere. Cioè una cosa del genere, messa a vostra disposizione, a delle coordinate del genere, è, amici, amiche mie, cioè... Poi voi magari pensate che ricapiti, ma guardate che non ricapita. Io sono un grande sostenitore di Cacciola. La grande superficie integrativa di Cacciola costa più o meno gli stessi soldi. Adesso va bene tutto, ma stiamo parlando di Scaravino. Questo non è un bravo artista, un grande artista, un artista importante, un artista interessante, che ha scritto belle... Questo è uno che la storia dell'arte e con il suo lavoro l'ha cambiata. Scaravino è uno tra i più grandi informali della storia della pittura europea. Non ci sono mica dubbi su questa cosa qui, capite? Non insistiamo oltre, Davide, per l'amore del cielo, perché il mood non è... Devi comprare, no? Il lavaggio del cervello, devi comprare Scaravino. Il mood, ripeto, è quello di riprendere in considerazione una serie di opportunità che in queste settimane, fermo restando gli inediti, le cose che anche questa sera naturalmente vedete e che sono novità e ce ne sono un po', ma il corpus portante di questa trasmissione, io ho proprio voluto ricostruire un percorso che fosse... un percorso dell'ultima... fai del mese di gennaio, più o meno, quindi delle ultime quattro settimane, una roba del genere, dall'inizio dell'anno, di cose che abbiamo visto, magari anche una volta sola, ok? Tipo il Cacciola, tipo proprio lo Scanavino, poi non l'abbiamo più rivisto. La Dada Maino, un quadro che abbiamo visto un paio di volte, sì, Calzolare l'abbiamo visto una volta sola, Mondino l'abbiamo visto una volta sola, Zorio l'abbiamo visto una volta sola, Alviani l'abbiamo visto una volta sola. Adesso va bene cambiare le opere il più rapidamente possibile, farvi trovare sempre tante novità, ma non è che queste sono cose che le vedi una volta e poi dici, vabbè, non le han confermate, buonanotte al secchio, ma sono tutte cose molto importanti. Poi certo, inserite dentro un condotto dove ci sono cose ancora magari più importanti, è ovvio che uno magari, no, uno guarda le cose più importanti ancora, ma questo non è un buon motivo per perdersele, però piuttosto, ecco, rallentiamo un attimo l'inserimento degli inediti, se è necessario, se stiamo correndo troppo, perché questo è proprio il pensiero che facevamo tra ieri e oggi, se stiamo correndo troppo, magari è il momento di decelerare un attimo e concentrarci un po' di più sulle cose che ci sono a disposizione, perché è una tristezza vedervele perdere, c'è un lavoro di Mondino come quello che c'è al numero 5, signore e signori, scusate, ma un Mondino dell'88 archiviato che ha a che fare con Parigi, realizzato in questa maniera assolutamente atipica, perché con la pittura ed il glitter, quindi una roba mai vista, mai vista, mai vista, una cosa mai vista di Aldo Mondino, qualcosa di veramente mai visto, che alla fine, anche qui, si presenta a che cifra? Ah, 9.800 euro con le permute al 50%, cioè, questo è un, Ivo, signore e signori, con 4.900 euro, per comodità di calcolo, 5.000 euro, di Paladino, e sì, scusatemi, oh mio Dio, di Mondino, vi vedo comprare i Dervisci, che sono opere belle, a me piacciono molto, i suoi, questi ballerini rituali, che lui dipinge con grande morbidezza, usando lo smalto, su questa superficie così, tra l'altro innovativa in pittura, come lui è riuscito a trasformarla, che è l'inolium, bello, tutto molto bello, ma anche opere molto recenti, anche un po' tardive, se vogliamo, nella produzione di Mondino, che alla fine, in un formato poco poco grande, un Derviscio 60-60, ma costa quello, ma meno, ma 50-50, un Derviscio 50 per 50, di Mondino, ma 5.000 euro, vi servono per comprare quello, questo è un metro per 70, ed è un quadro completamente fuori dallo schema, ripeto, tecnica mista e glitter su tela, tra l'altro, il pezzo proviene anche lui, qui c'è una piacevole concomitanza di provenienze, che è quella che riguarda sia l'opera di Scanavino, che questo lavoro di Aldo Mondino, che entrambi provengono, vedi non casualmente, da un grande gallerista italiano, che era, ripeto, valente di Finale Ligure, che aveva sicuramente occhio, sia nella scelta degli artisti, che nella scelta dei quadri degli artisti, cioè era uno di quelli, anche lui, che non è che presentasse tutto, è uno, scusa, di quelli che non è che presenti tutto quello che gli capita, presenta le cose che gli piacciono, le cose che si sceglie, anche qui, scusate, ma vedi, questa è un'altra opera, che abbiamo visto un po' così disfuggita in una trasmissione, ma sulla quale invece dobbiamo tenere il punto, dobbiamo concentrarci, dobbiamo essere presenti a noi stessi, nel momento in cui l'opportunità diventa quella di mettere le mani su cose del genere, e di metterci le mani a queste condizioni, ripeto, il pezzo costa 9.800 Euro, che con le permute al 50%, vuol dire spenderne 4.900, 5.000 Euro, ragazzi, andate a comprare un derviscio, ripeto, 50 per 50, di Aldo Mondino, degli ultimi anni, porca boia, pagate quello 5.000 Euro, e lo comprate di corsa come se fosse un regalo, e poi vi perdete questa di tela di Mondino, che è una tela che parla di Parigi, che è una tela che parla di questa esplosione cromatica, questo glitter, che è veramente luce, ma è raga, che quadro, ma che quadro, e questo invece poi per 5.000 Euro che devi spendere te lo perdi. Scusate, ma certo che il calzolari è a posto, vieni da me, queste sono applicazioni a collage, chiaramente, questi sono collage di carta sulla carta, ovviamente, questi sono pennarelli e collage, collage di cosa? Di questa piuma, che si trova al centro dell'opera, questa Davide, questo è il collage della piuma, e poi il collage delle carte, che sono applicate sul cartoncino sottostante, non presenteremmo mai un quadro rovinato, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe assolutamente altro, ma tanto che la documentazione dell'opera la riproduce esattamente così. Cioè qui c'è una bellissima provenienza su fotografia, che è quella di Cannaviello, è il grande Cannaviello, a proposito di grandi galleristi della storia d'Italia, e l'opera è proprio così, è un collage di carte, ma si vede, oh stringi, cioè si vede che non è un pezzo di carta strappata, è collage, si vede proprio, fallo pure vedere, vai proprio nel dettaglio. E' un Pierpaolo calzolari del 1969, che noi vi proponiamo a 14.000 euro con le permute al 50%, vuol dire spenderne 7, ma raga, anche qua, boh, c'è un calzolari degli anni 60, ma andatelo a trovare, boh, vediamo quanto lo pagate, a quanto lo propone, qui con 7.000 euro ve lo portate via, un calzolari del 69, ma siamo seri? Ma anche lo Zorio, subito dopo, guarda io le rivedo, ripeto, è proprio il senso di questa trasmissione, è rivedere, tutte queste cose straordinarie, a dei prezzi che sono veramente, con le permute al 50%, sono borderline col surreale, capite? Allora, Gilberto Zorio, numero 7, pezzo pubblicatissimo, bello, 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 come sempre realizzato con queste sabbie, che è poi la sua peculiarità quando lui lavora su carta, allora, tecnica misa su cartoncino, il tutto poi montato su tela, il pezzo è del 94, è un senza titolo, proviene da, alla provenienza di Ebbland, di Verona, naturalmente rilasciata su fotografia, e poi è pubblicato sulla rivista Carte d'Arte internazionale, il numero 2 del giugno del 1993, lo trovate pubblicato a pagina 10, la rivista noi ce l'abbiamo, vi faremo tranquillamente le foto, anche qui, costo 9 mila Euro, con le permute al 50%, cioè, voi pensate di trovare Zorio, un pezzo unico, pubblicato, e di comprarlo con 4 mila e 500 Euro, e provate, io, cosa volete che vi dica? Provate, andate a farlo, provate a farlo, vediamo se riuscite, perché qui ci riuscite, costa 9 mila, 4 e 5 li spendi, 4 e 5 li permuti, in soldoni, con 4 mila e 500 Euro, è archiviato la pratica Gilberto Zorio, hai un pezzo unico di Zorio in collezione, pensi di riuscire a farlo? Prova, il mondo è bello, perché è vario, ci sono tante proposte, tutti sono, giustamente hanno, le loro proposte, andate a sperimentarle, andate a provarle, e vediamo, vediamo, io mica lo escludo, vi dico, provate, se quando provate, non ci riuscite, e quando tornate a dire, sì, effettivamente questa proposta, era la migliore, che potessi auspicare, di sentirmi fare, in relazione all'opera, dell'artista che sto cercando, e per caso, ci sentite rispondere, guardi, mi scusi, ma io l'opera, nel frattempo l'ho venduta, non ce l'ho più, ecco, non vogliate ce n'è, perché poi davanti all'ovvio, con tutto il rispetto, eh, per tutti, però davanti a, qui ci sono alcune proposte, che sono ovvie, che sono proprio ovvietà, ovvietà per chi sa, quattro cose di prezzi, ma quattro cose, non è che devi essere il campione del mondo, quattro cose sui prezzi, serve di conoscere, basta, finito, e per uno che conosce quattro cose sui prezzi, quattro, prenotare Zorio, prenotare Calzolari, prenotare Mondino, prenotare quell'Alviani, prenotare lo Scanavino, è, cioè, è, è normale, è un'ovvietà, appunto, come dicevo, pochi istanti fa, fammelo rivedere, tra l'altro, l'Alviani, ok, grazie a tutti, grazie a tutti, Dice Tullio Albiani, Tela, 60x60, 1978. Tela quindi è un dipinto acrilico a tutti gli effetti. Questa è un'opera un po' atipica per la conoscenza media che c'è di Albiani, di cui tutti tendiamo a comprare. Ma infatti, guarda, l'alluminio del 70, che c'era a Pareti domenica mattina, tre prenotazioni, ma costa sei volte questo, ok? Di più, mi sa. Sì, di più. Costa sette volte questo, ok? Quindi stiamo parlando di tutto. E alla fine era 70x70, sai, è un formato in più. Questo è un 60x60, però quello è alluminio e quindi è l'Alviani per eccellenza. E questa è una tela, quindi è ovvio che costano due cifre diverse. Ed è anche giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Certo, tra due cifre diverse e 11.000 euro con le permute al 50%, che vuol dire spenderne, anche qui vedi, 5.500 euro e ti togli il pensiero. E insomma, io per capire, per aiutarvi a, come dire, mettere bene nel mirino la bontà della proposta che passa attraverso questo lavoro di Getuglio Alviani, mi prendo semplicemente la libertà di dirvi, provate ad andare a comprare una carta di Alviani. Alviani, sapete, ha realizzato più opere dove foglio di cartoncino e poi sul foglio di cartoncino ha applicato delle lamelle di alluminio. Ha fatto delle piccole applicazioni in alluminio. A volte, oltre all'alluminio, ha applicato anche il laminato di legno colorato, rosso, blu, giallo, verde, via dicendo. Ecco, provate ad andare a comprare quelle opere di Alviani, perché l'ultimo alluminio su carta che ci è stato proposto di Alviani, quindi ripeto, un piccolo inserto di alluminio che era alla fine 30-30, ok? ed era alluminio e laminato di legno, blu, nello specifico. Prezzo a noi 15.000 euro. Ma era degli anni 70. Ma va! Ma va! Pezzo del 1990 e va te la pesca quando adesso non mi... Credo, mi sembra di ricordare il 98. Mi sembra di ricordare, intendo dire, che poi quando ho saputo il prezzo, ho detto no, vabbè, tutto il resto mi diventa irrilevante perché adesso con tutto il rispetto è bello, è bellissimo, ma è una carta. Ma come faccio a pagarlo? Io poi a mia volta lo devo proporre... Ma quanto devo chiedere di questa carta? 20.000 euro? Ma guarda, qui a 11.000 c'è una tela dipinta, che è una favola, è veramente stupenda, ed è del 1978 e con le permute al 50% ve la portate a casa spendendo 5.500 euro. Direi che vale decisamente la pena. Senza grandi... Guarda, senza grandi tumulti, senza grandi trambusti, direi che vale decisamente la pena. Grazie. 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 Grazie mille. Si parlava di Walter Valentini, andiamo a parlarne, via. Anche se di Valentini ve lo anticipo subito, domenica vedremo una cosa enorme enorme, una cosa grande e importante perché un metro e venti mi dobbiamo andare a vedere, numero 14, stavo dicendo, quadro grande e imponente ma soprattutto con un curriculum, mamma ragazzi, mostruoso, mostruoso, veramente mostruoso. Comunque domenica mattina lo vediamo. Nel frattempo ci godiamo il pezzo che invece abbiamo selezionato per voi questa sera, che nel caso specifico, questo ad esempio è un inedito, tecnica mista su una tavola del 2005 che si intitola Pegasus, di grande formato perché è un 60x90, 60x88 naturalmente nella sua teca in plexiglass, il pezzo è archiviato, in più è pubblicato su Walter Valentini il rigore della geometria, le fratture dell'arte, le opere al 1973 al 2017, pubblicato a pagina 46 e poi Walter Valentini, è una notte stellata, ecco il progetto e lì lo troviamo pubblicato a pagina 55. Quindi pubblicato su due monografie che abbiamo, eccole qua, sono queste, so che le abbiamo se non altro perché me le hanno preparate, eccolo qua, in particolare mi piace il fatto che l'opera sia pubblicata sulla grande monografia di Schirà, il fatto che l'opera sia qui è un dettaglio non da poco, insomma, eccolo qui, Walter Valentini è una notte stellata, ecco il progetto, perché è importante? Perché questa è la monografia di Valentini che ha curato la pontigia, che è un grande nome della nostra critica della storia dell'arte, ed ecco qui il pezzo che è Pegasus, lo troviamo pubblicato qua. E poi è pubblicato sulla monografia che invece è quella di Silvana Editoriale, Il rigore della geometria, le fratture dell'arte, questa è monografia che invece ha curato Marzia Ratti e qui andiamo qua giù se la memoria non mi inganna, esatto, e troviamo di nuovo lui pubblicato sempre a piena pagina, sempre Pegasus, ripeto 60 per 88, sono le 11.05 ragazzi, quindi 25 minuti ed è finito l'appuntamento, siamo al termine dell'appuntamento di questa sera. Allora, grande formato, grande qualità, io a questo punto, sai, tra l'altro mancano 25 minuti, non torno poi di nuovo su tutta una serie di argomenti che abbiamo, questa sera mi sembra affrontato in maniera abbastanza nitida, piuttosto assieme a voi andiamo a vedere altre cose, però ragazzi mi raccomando, poi non è adesso, è in replica, ci volete dormire sopra, ci sentiamo tutto come volete voi, però Santo Cielo, Lo Scanavino, L'Alviani, Quel Mondino, le opere di Calzolari e di Zorio, le opere di Spadini, Il Cacciola, Griffa, l'opera del maestro Marcheggiani, quella grammatura di non colore che tanto poi andiamo a rivederla, Carmi, cioè eh ragazzi, anche stasera, no? Ma soprattutto, ripeto, in questa, in questo, in una serata che è proprio stata concepita per rimettere al centro alcuni argomenti che abbiamo affrontato ma poco e niente rispetto alla loro importanza, approfittatene perché, ripeto, qui c'è proprio anche una questione un po' logistica se vogliamo, noi siamo nella fortunata e gradevole condizione di riuscire a proporvi moltissime opere d'arte, quindi abbiamo tanti ed importanti inediti da sottoporre alla vostra attenzione ogni santa settimana e abbiamo, se togli la migliore offerta, che è una diretta che va un po' da sé, proprio un form, niente di quello che vedete nelle mie dirette poi mediamente trovate nella migliore offerta e viceversa, capite? Quindi sì, capita, ci sono delle eccezioni in cui prendiamo magari un pezzo tipo la Dada Mai non è stata anche nella migliore offerta, perché poi un pezzo può succedere ma è uno, mediamente le cose non si mescolano, quando un'opera d'arte entra qui dentro gli si sceglie un profilo comunicativo, quello della migliore offerta o delle permute e poi sta lì, sta nel suo profilo. Quindi in soldoni abbiamo due dirette alla settimana e una montagna di cose da farvi vedere. Nel momento in cui domenica, poi magari qualcosa di stasera per domenica mattina, di nuovo ve lo faccio rivedere ancora, tipo, ma che ne so, il calzolare e lo zorio è assurdo che non vadano in conferma, l'Alviani magari ha anche lo scanavino, bisogna poi, siamo le soliti, bisogna vedere se c'è il posto, perché poi le trasmissioni della domenica io odio avere troppi quadri, perché tanto poi non riesco a presentarli, quindi cosa cavolo metto a fare 20 quadri, che poi faccio fatica in termini di comunicazione, in termini di approfondimento, facciamo fatica a vederne 12 e ne metti 20, vuol dire che ne hai messi 8 per dire che ci sono, è un peccato. Quindi, ripeto, in un periodo in cui di cose ne vediamo tante, ma veramente tante, e interessanti, importanti, internazionali, eccetera, 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 cercate anche un attimo, vi prego, di carpe diem, quando ce l'hai un'opportunità, tanto non stai comprando niente, il quadro prenotalo, quello scanavino prenotalo, lo zorio prenotalo, ripeto, il calzodari prenotalo, l'opera di Albiani prenotala, l'opera di Mondino prenotala, adesso potremmo andare avanti così e menzionarli anche tutti, ma alcune cose veramente, santo cielo, non perdetevi in un bicchier d'acqua, tanto se ve ne andate a spasso, le pagate solo di più, le potete pagare solo di più, cercate davvero, se posso permettermi di ottimizzare l'opportunità che vi è data, senza comprare un bel niente, ma prenotando sicuramente un'opera che poi, se vi portano via, non prevede una seconda chance a parità di condizioni, ok? Ci tengo molto a questo argomento specifico. Detto ciò, 7 mila euro finali da confermare con le permute al 50%, attenzione, perché non è un 50-50, un 40-40, è un'opera che questo comincia a essere un 60-90, cioè è una cosa importante di Valentini, che è un autore attorno al quale, con piacere, stiamo assistendo ad una bella, ma non solo crescita dei prezzi, stiamo proprio assistendo ad una bella rivalutazione in termini proprio di interesse, in termini culturali, in termini di livello di attenzione, nudo e crudo, ok? E stiamo assistendo ad una bella rinascita, ecco, di un artista che è un artista che io ho sempre molto amato. Mi piace moltissimo questo suo essere un po' astronomo, un po' archeologo, un po' astrattista, perché poi lo è senza la benché minima ombra di dubbio. Mi piacciono molto le diverse sfaccettature del lavoro di Valentini e mi sono sempre piaciute molto, da qui il motivo per il quale, insomma, quando ne ho avuto la possibilità, i suoi lavori li ho sempre presentati, sempre. Ogni qualvolta ne ho avuto l'opportunità, ogni qualvolta ne ho avuto la possibilità. Ci siamo proprio accorti a un certo punto, mi ricordo perfettamente era la metà del 22, sei mesi fa, otto mesi fa, che attorno a Valentini veramente i prezzi erano precipitati in una maniera proprio irragionevole, irragionevole. E ci è sembrato il momento anche giusto per dire, ma senti, riaccendiamo i riflettori su un nome che è un nome nel nostro piccolo, non che se ci mettiamo noi sul pezzo cambia qualcosa, cambia niente, se ci mettiamo noi sul pezzo, però comunque siamo una dignitosa vetrina per qualsiasi artista, approfitti della propria presenza in questo studio televisivo, più o meno grande, più o meno importante, più o meno internazionale, sappiamo di essere e rimaniamo una vetrina di qualità per gli autori che presentiamo. E quindi nel nostro piccolo, anche se sappiamo di essere l'ultima ruota del carro, abbiamo comunque deciso che era una bella idea quella di riportare l'attenzione quantomeno del nostro collezionismo. Ecco, il lavoro di un maestro straordinario come è stato Walter Valentini che è venuto a mancare proprio nel 22, tra le altre cose, cioè è mancato proprio l'anno scorso. E devo dire che c'è stata una risposta stupenda da parte del pubblico, ma soprattutto da parte delle gallerie, Valentini è di nuovo presente nelle fiere, è di nuovo oggetto di attenzione per quanto riguarda le mostre, cioè bello, 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 bene, noi siamo veramente contenti, i risultati d'asta stanno salendo, bene, cioè sta andando tutto molto bene. E naturalmente di questo noi siamo ovviamente contenti. Ora, questo è un pezzo importante, è un pezzo che ha fatto due mostre, pubblicato sulle monografie di entrambe le mostre, è un'opera, come avete visto qui, più ripubblicata, più riesposta, già archiviata, di grande formato, perché poi io mediamente di Valentini vi presento 40-40, 50-50, oppure appunto dittici e trittici molto grandi che però hanno chiaramente prezzi diversi. Questa è una cosa che comincia ad avere un formato importante ma senza diventare un metro e venti per un metro e venti, un metro e cinquanta per un metro e ottanta, cioè è gestibile nel suo formato che comunque è quello di un sessanta per novanta circa e alla fine, ripeto, 7 mila euro con le permute al 50%, scusate, ma sono 3 mila e cinquecento euro che spendi e 3 mila e cinquecento euro che permuti, punto e a capo. Non è che c'è da fare grandi voli pindari, c'è un artista da comprare, anche qua un artista che ha fatto tutto, biennali, quadriennali, mostri all'estero, andatevelo a guardare il curriculum di Valentini, fa paura, fa veramente paura, fa veramente paura. E alla fine con 3 mila e cinquecento euro compri i quadri. Poi qui Pegasus, noi abbiamo proprio una costellazione che è Pegasus, cioè gli astronomi con Pegasus letteralmente identificano una costellazione che c'è, che esiste. Questo fa un po' il palio con le abitudini che Valentini ha preso nel corso del tempo, che è quello di usare l'astronomia dentro le sue opere per disegnare quelle che sembrano veramente mappe stellari. C'è un vecchio film di fantascienza che si intitola Wing Commander, in cui c'è questa, ma non razza perché sono comunque esseri umani, ma questa casta, casta è proprio il termine giusto, di viaggiatori che esplorano lo spazio e in alcune scene si vedono le mappe che usano, sembrano quadri di Valentini, sembrano quadri di Walter Valentini, è impressionante. Grazie 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 Beh Grazie Allora dieci minuti ai saluti fa in tempo sicuramente a tornare in panoramica, e poi a meno che non sia il nostro pubblico a indirizzarci verso vども e piuttosto che un'altra, saremo noi a rimettere sicuramente al centro sia l'opera del Maestro Marchigiani che quella di Dadamaino che sono due opere mi sento nella condizione di poter magari saltare l'argomento scultura di Mondino perché abbiamo largamente parlato dell'altra opera di Mondino che è quella su tela per quanto riguarda Gilbert Siavo lo stranosciamo quindi basta vederle le opere però ribadisco torniamo prima di tutto in panoramica vi ricordo che ci salutiamo alle 23.30 quindi fra 11 minuti signore e signori mi prendo la libertà di consigliarvi un attimo anche di ottimizzare i tempi a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora abbiamo rivisto tutto il set, vai Davi, torna pure sul pezzo della Dada, che è una provocazione numero 11, che come dicevo prima è una provocazione. Perché è una provocazione? Perché lo stiamo proponendo a 4.000 euro con le permute al 50%, quindi 2.000 euro che spendete e 2.000 euro che permutate non è un multiplo, è un pezzo unico. Chiariamoci sull'argomento che non è un pezzo archiviato. Quindi è semplicemente una cosa che è un affare. Punto. Alfabeto della mente, lettera numero 1, del 1980. realizzata con l'inchiostro su carta, ecco una cosa che ho sempre amato di Dada Maino, ben più dei suoi volumi, che lo dico molto onestamente non mi hanno mai fatto impazzire, infatti noi ne abbiamo trattati pochissimi, sempre. Ecco, io della Dada Maino, le costellazioni invece, le costellazioni, gli alfabeti della mente, queste opere nelle quali governa, l'opera è governata dal segno della Dada Maino, queste opere nell'ambito delle quali in sostanza Dada Maino cerca letteralmente di decodificare le emozioni, di decodificare i pensieri, trasformandoli in immagini, degli elettroencefalogrammi praticamente, sono questo. Le sue opere governate dal segno, che sono quelle della sua produzione che mi hanno sempre letteralmente fatto impazzire, impazzire. La cosa che mi piace di più di Dada Maino sono indiscutibilmente le opere che hanno questa natura, ripeto, le lettere, le costellazioni, appunto gli alfabeti, eccetera, 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 opere dove con l'inchiostro di china lei riusciva a fare delle cose magiche, letteralmente magiche, e la cosa straordinaria è che le faceva a mano libera, non le faceva con l'ausilio di un qualche tipo di strumento che rendesse il segno più omogeneo, ma va, tutto a mano libera, un segno dietro l'altro. Un lavoro, proprio un lavoro, in alcuni casi, che probabilmente potremmo definire maniacale, ma che ha fatto di Dada Maino la grandissima autrice che secondo me noi oggi ricordiamo. Ci sono dei nomi al femminile che tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta hanno veramente segnato le pagine della storia dell'arte, io penso a Grazia Varisco, penso ad Adamaino, penso alla Cardi, insomma, le autrici, le grandi autrici, chiedo scusa, patrimonio culturale italiano. Poi per le donne è sempre stato tutto molto più difficile, in un certo senso lo è ancora oggi, figurati quanto poteva esserlo in questi anni quando una donna sceglieva di mettersi a dipingere. Era tutto più complicato, era tutto ancora più sciovinista rispetto a quanto non sia oggi e lo è ancora molto, parliamoci chiaro. Però all'epoca era proprio di una complessità enorme, infatti sono diventate icone, non sono semplicemente diventate autrici o intellettuali, tipo la Palma. Loro erano, avevano 50 marce in più ma anche rispetto a molti colleghi uomini, detto proprio molto molto francamente. Io non mi dimenticherò mai l'intervista fatta a Oberten, quando io chiesi a Oberten, mi dica, mi perdoni, ma alla fine degli anni 60, mentre lei respirava il clima del gruppo zero in nord Europa, e diceva, ma gli artisti italiani che conoscevate o addirittura magari che frequentavate, quali erano? E lui mi fece due nomi, Dorazio e Dadamaino. Non me lo dimenticherò mai. Stiamo parlando del gruppo zero, eh? Cioè Dadamaino la invitava a gruppo zero. Eduarda Maino, alla storia Dadamaino. L'opera del maestro Marchegiani, dai, che poi ci salutiamo direttamente da lì perché siamo agli sgoccioli. Eh sì, mancano cinque minuti, meno, forse quattro. L'opera del maestro Marchegiani, che è al numero 19, che è una splendida grammatura di non colore, realizzata su lavagna, imponente, 70 per 70. Siamo nel 1977. Ogni opera del maestro Marchegiani è un patrimonio. Ogni opera del maestro Marchegiani è un patrimonio, è un patrimonio di informazioni, è un patrimonio che poi è anche identificato dal fatto che il maestro Marchegiani sia uno tra gli ultimi veri grandi intellettuali viventi nella storia della cultura italiana della seconda metà del ventesimo secolo. Ormai siamo nel 2023, ormai siamo nel 2023, Marchegiani è veramente un superstite oggi, di una generazione di artisti che non ci sono più. Le persone come Marchegiani vanno ben oltre la semplice figura dell'artista perché sono patrimonio storico di una nazione. Magari non si riesce a cogliere immediatamente proprio la, ma non tanto l'austerità, proprio l'importanza di questa cosa, ma è gigantesca, ma è importantissima. Ripeto, Marchegiani è una pietra miliare di una tra le fasi più belle e forse più irripetibili della nostra storia, che è stato il dopoguerra. Un tempo che sarà difficilissimo che ritorni, un tempo fatto di intellettuali veri, quel momento meraviglioso che era quello che vedeva la definizione della città di Parigi, che ci dava il maestro Biggi, cioè la città, in realtà il maestro Biggi che ci riproponeva la definizione che gli dava Courbet, che era quella della città nella quale circolavano più idee che automobili, e a Parigi negli anni 50, guardate macchine, ce l'erano già tante. Quindi, insomma, una stagione irripetibile, una stagione irripetibile della storia, dalla quale sono emersi alcuni nomi che sono il patrimonio della nostra cultura. E quando guardi un'opera di Marchegiani, guarda che stai guardando quello, non stai guardando semplicemente il bel quadro, il buon quadro di un bravo artista, è tutto un po' più complesso di così. Quindi, avremo modo anche qui, nel corso degli anni a venire, secondo me, di vivere una grandissima deflagrazione dei prezzi, ma grandissima, grandissima. Guardate, io anche qua, qualche Marchegiani in collezione me lo sono messo, qualcuno, non uno, perché sono profondamente convinto di quello che vi sto dicendo. Il maestro Marchegiani è uno del quale ringrazieremo il Padre Eterno di avere i quadri in collezione, e fra non moltissimo tempo. Io sono grato, anche questa sera, manca un minuto, quindi devo iniziare a salutare, perché poi la mezz'ora di Francesca deve essere tutta, altrimenti no, se finisco tardi io la taglio, per gli amici che ci stanno con la digitale terrestre, è un peccato. Signore e signori, velocissimo, e chiudo proprio con piacere con l'opera del maestro Marchegiani accanto a me. Sabato, la migliore offerta, non perdetela, riceverete come sempre il catalogo, domani pomeriggio sarà di nuovo un bel catalogo, e noi continuiamo sempre, l'auspicio è quello di sempre, cioè quello che vi piaccia è il lavoro che noi facciamo anche con quello specifico format, che è quello della migliore offerta, e partecipiate sempre, partecipiate tanto e scegliate il maggior numero possibile di opere, perché per noi la migliore offerta è un format appunto molto importante. E poi domenica mattina, sapete già cosa ci aspetta, la domenica mattina guardiamo sempre opere molto importanti, e anche questa domenica speriamo di aver fatto bene il nostro lavoro, procurandoci le opere giuste, da sottoporre all'attenzione dei nostri collezionisti e delle nostre collezioniste. Io faccio proprio un flash particolare per gli amici e per le amiche che sono appassionati, o comunque ai quali interessano le opere di Burri, piuttosto che le opere di Penck, perché di ciascuno dei due domenica mattina vedrete veramente due cose molto belle, quindi le troverete proprio in inquadratura, quindi come accendete la televisione sul canale 130 del digitale terrestre per seguire la diretta di arte e tele di domenica mattina, le vedrete immediatamente. Signore e signori, grazie infinite del vostro tempo e della vostra attenzione, io vi rimando agli appuntamenti del weekend sabato in compagnia della bravissima Francesca Castellano, domenica mattina di nuovo in mia compagnia, grazie un'altra volta ancora, mi congedo con l'augurio di sempre, vale a dire quello di una buona notte a tutti e a tutte da parte di Alessio Calestani, grazie infinite e una buona notte a voi.